Salve a tutti ragazzi, sono RobiRox. Volevo solo informarvi che quando vi collegate su YouTube e andate a visitare il mio canale, come in questo caso, imparate ad utilizzare la scheda playlist che trovate qui. Perché molti dei video che cercate e molte delle risposte alle vostre domande le trovate in queste playlist qua. Infatti io ho catalogato tutti i miei video per categoria, quindi abbiamo per esempio i RobiRox Tutorial, Guitar Solo, i preset per Edrush, i preset per Ampero, i preset per Fractal o i tutorial di Bias FX2 oppure le recensioni con fonti unboxing. Per esempio se cercate la recensione dell'ultima Moer GE250 che ho acquistato, basterà cliccare su questa playlist, andare in fondo, sono in ordine di pubblicazione e la trovate qui in fondo. Quindi nulla di più facile, imparate ad utilizzarle questa funzione di playlist. Allo stesso modo anche da smartphone, quindi quando entrate nell'app mobile YouTube, andate nel mio canale, come in questo caso, trovate in alto la scritta playlist, con tutte le playlist che ho realizzato e si comporta ovviamente nello stesso modo che vi ho mostrato da PC. Ricordatevi questa cosa, io vi ringrazio e vi saluto, ciao!